ci si ascinge ai 3 metri proprio oggi ecco le tavole le nostre 6 tavole da snowboard ora la come cazzo riprendiamo? chi riprende? sono anch'io e si al contrario se la viene al contrario invece la prossima sera la a me che ci riprende non fa niente la puntiamo? riusciamo a mettere la macchina così la puntiamo verso il mare si sai qualunque li troviamo? guarda cosa? guarda un quadratura da segni post datati per capire quanto dovremmo spendere di benzina devi salire perchè ho lasciato le sigarette sopra vero? no no facciamo tutta la manovra perchè le sigarette dove sono le sigarette? posso? vado ragazzi si vai 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 è turnica sono 70 litri di benzina siamo 89 siamo 90 che spettone è il ma non c'è? non c'è? non c'è? che poffa è una sacrosanta verità eh? sotto tenete tenete così si può andare a destra? si a destra si a sinistra o no? eh eh stai alava stai alava stai alava andiamo a tostello stai alava L'abbiamo saldato due minuti fa L'abbè tutta questa strada perché stavo andato in mezzo E' sembra meglio di niente Però era più incasinato Qua guarda che carino Poi se tu sei con il longboard guarda che ti fai La strada La strada Zero Ma è che qua non la possiamo far fare Sì qua è carino Sta arrivando Aspetta sta arrivando il set guarda Non ha presa nessuno Bella questa sinistra Però sono un po' con lo south Ma vediamo le prossime Dino a me non mi piace Ma povera Dai con il longboard ci spacchiamo Dai vatici a vedere Sì oddio Ma che spacchiamo la dici Molto Ma dove vuoi pipe out Hai visto quello lì Ma che spacchiamo la dici Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.